La Società della Musica del Teatro Primo Riccitelli insieme ai Solisti Aquilani per un progetto davvero innovativo che ha a che fare con un pubblico particolare. Di che si tratta? Sì, è la prima volta che ci mentiamo per un progetto del genere, quindi accoglieremo bambini per così dire da 0 a 3 anni, quindi dei musicisti, dei Solisti Aquilani si rivolgeranno a loro, si rivolgeranno a tante mamme che saranno in attesa di bimbi o mamme con le carrozzelle. Insomma, il tutto si realizzerà sabato prossimo, primo aprile, in due a Silinido di Teramo, il Pinocchio della Gammarana e il Gatto con gli Stivali di San Nicolo a Tordino. Un modo per avvicinare i bambini alla musica? Esatto, infatti il tutto sarà affidato a due professionisti che hanno avuto esperienze a Londra per tanti anni, e hanno portato appunto negli ultimi mesi, noi all'Aquila abbiamo già avuto questa esperienza, è stata un'esperienza straordinaria vedere tutti questi bambini gattonare, avvicinarsi ai suoni, agli strumenti, e quindi è qualcosa che ci tenevamo insomma a portare nella nostra città. L'educazione alla musica comincia fin da piccoli? Assolutamente sì, educazione all'ascolto, d'altra parte è d'obbligo da parte nostra quest'opera di sensibilizzazione.